Forza e competenza, flessibilità e tenacia, opportunità e rischio, in perfetto equilibrio. Vi aiutiamo a realizzare un equilibrio perfetto tra gestione del rischio e nuove opportunità, tra flessibilità e sicurezza, tra protezione e assicurazione. Atradius. Manager Risk Enabling Trade. Beni e servizi, finanza e informazioni, tutto si muove attorno al mondo. Nel ventunesimo secolo hanno perso importanza le frontiere commerciali tra i paesi. Atradius ne è il riflesso, siamo presenti in tutto il mondo. Con un raggio d'azione globale. Una rete di esperti presenti in tutto il mondo segue da vicino imprese, mercati e paesi a livello internazionale. Un patrimonio di informazioni che Atradius utilizza per valutare l'affidabilità dei partner commerciali dei propri clienti. Perché nel mondo degli affari, affidabilità è sinonimo di successo. Sulla base delle nostre valutazioni di affidabilità, deliberiamo migliaia di limiti di credito al giorno. Grazie alla nostra efficiente struttura interna, avrete la garanzia che la vostra attività sarà riparo dal rischio di insolvenza in qualsiasi parte del mondo. Ma assicurare i crediti con Atradius non è solo un modo per prevenire carenze di liquidità, mancati incassi o insolvenze causate da mancati pagamenti, è anche un investimento nella vostra impresa con ritorni in termini di profitto e sostenibilità. Vi offriamo il vantaggio di avere informazioni utili a concentrarvi su una crescita profittevole. Non importa quale sia la dimensione della vostra impresa, le nostre polizze personalizzate vi offrono la flessibilità e la sicurezza di cui avete bisogno. E se nuove opportunità vi si presentano, saremo al vostro fianco, personalmente. Atradius dal 1925, un partner assicurativo di fiducia a tutela del business. Oggi assicuriamo scambi commerciali per un valore di centinaia di miliardi di euro, ma la globalizzazione ha reso i rischi sempre più complessi. Vi aiutiamo a gestirli? Perché siano con le vostre opportunità in perfetto equilibrio. Atradius Managing Risk Enabling Trade Managing Grazie.